Figlia degli attori e doppiatori Vittorio Stagni e Lorenza Biella, è sposata con l'assistente di doppiaggio Anton Giulio Castagna, ed ha un figlio, anche lui doppiatore, Jacopo Castagna, è nota soprattutto per aver prestato voce al personaggio di Bart Simpson, del cartone animato i Simpson dalla prima alla ventiduesima stagione. Tra le attrici cui ha prestato più spesso la voce ricordiamo Mira Sorvino, Winona Reeder, Charlize Theron, Jennifer Lopez e Samantha Morton in alcune significative interpretazioni. Tra le altre attrici doppiate Jessica Biella in The Illusionist e L'Illusionista e Settimo Cielo, Nicole Eger in Babysitter, Kim Fiel D.S., tutti del telefilm L'Albero delle Mele, Claire Dancy in Stardust, Cristina Ricci, Natalia Portman, Patricia Arquette, Sienna Miller, Salma Aieke e Jennifer Connelli in Fenomena di Dario Argento e Labyrinth. Ha doppiato inoltre Neve Campbell, Giulia, in Party of Five, Scarlett Johansson in Match Point, Vicky Cristina a Barcellona e Scoop, Eva Longoria nel ruolo di Gabriele Lesolis in Desperate Housewives, Macaulay Culkin in Mamma, Ho perso l'aereo, Miranda Otto nel ruolo di Eowin negli ultimi due capitoli della trilogia del Signore degli Anelli. Barrett Oliver nella storia infinita. Ha anche doppiato Shirley Temple nei ridoppiaggi di alcuni suoi celebri film, come Riccioli d'Oro, Zoccoletti Olandesi e La piccola principessa. Nel campo dell'animazione, oltre a Bart Simpson, la Stagni ha anche prestato la voce a Shippo, personaggio dell'anime giapponese Inuyasha, a shampoo in ramma un mezzo. Nel 1993 ha inoltre dato voce al topo Jerry Mouse in Tom and Jerry, il film, e nel 1995 alla protagonista del trentatresimo classico Disney. Pocahontas, nel 1999 a Turk nel film Disney Tarzan e nel 2000 a Baba in Galline in Fuga e Cielo in la strada. Per Eldorado, entrambi film d'animazione della DreamWorks. È inoltre stata la voce di Jesse nei film Toy Story 2 e Toy Story 3. Tra i ruoli più significativi avuti nei telefilm vanno anche ricordati quelli di Maim Bialik in Blossom. Le avventure di una teenager, Diana Murray nel telefilm Skins e Kimberly Williams nella miniserie TV Il magico regno delle favole. Lavora in esclusiva con la CVD dal 1997. Nel luglio 2006, ha vinto il premio Leggio d'oro. Miglior interpretazione femminile dell'anno per il doppiaggio di Jennifer Lopez in Il vento del perdono. Dal 2009 interpreta nella trasmissione radiofonica Il ruggito del coniglio il personaggio Nadia Cartocci, una ragazza sue fatta dal celebre social network Facebook.